Quest'anno per esempio abbiamo 250 espositori e copriamo tutto il possibile immaginario degli spazi a nostra disposizione, sia all'interno che all'esterno. Abbiamo circa negli anni scorsi all'intorno di 30.000 visitatori ogni edizione e abbiamo sempre delle novità sia tecnologiche, attrezzature e coltivazioni particolari e innovative in rispetto soprattutto dell'ambiente e del territorio. Importantissimi sono i convegni che si sfoggeranno in tutti e tre i giorni, importanti voglio sottolineare solo alcuni, quella con l'ASL, la Regione e l'INAIL per la sicurezza sul lavoro, con le associazioni di categoria come la CIA e soprattutto con le associazioni iperiti agrari, gli ordini professionali degli agronomi che parleranno di un'agricoltura presente ma proiettata nel futuro, sia con la tecnologia nuova che andremo ad affrontare e sia con le culture nuove che saranno il futuro dell'agricoltura prossima. Noi ringraziamo la Regione come socio e insieme al Comune che sono la parte istituzionale pubblica insieme alla BIPER proprio perché possiamo in un modo di un altro pensare a un futuro avendo anche delle collaborazioni e dei contributi importanti dai nostri soci. Tant'è che riusciamo ad avere da alcuni anni anche dei bilanci positivi e questo è tutto merito un po' dei collaboratori, dei dipendenti, degli enti, dei soci e un po' di tutto lo stock.